L'Azerbaijan sta cercando in queste settimane di riesercitare una propria influenza diretta qui, in Nagorno-Karabakh, regione a forte maggioranza armena. Ma al di là della cronaca, questo conflitto ha un retroscena storico e geopolitico molto complesso. Nella live 244 sul canale YouTube di Parabellum, insieme a Luca Steinman, si è parlato del conflitto tra Armenia e Azerbaijan. I sovietici avevano permesso all'Azerbaijan di annettersi la regione del Nagorno-Karabakh lasciandole però ampia autonomia. Ma tra l'88 e il 94, al venir meno dell'autorità sovietica, le forze indipendentiste del Nagorno-Karabakh, maggioranza armena, dichiararono l'indipendenza vincendo. Nel 2016 l'Azerbaijan ha ripreso l'iniziativa, riaprendo il conflitto per quattro giorni. Gli scontri sono ripresi anche nel 2020 e poi di nuovo adesso, tra settembre e ottobre 2023. L'Armenia è supportata dalla Russia, che dovrebbe giocare il ruolo di pacere nella regione, ma con scarsi risultati. L'Azerbaijan, maggioranza etnica a zero e con collegamenti etnici al mondo turco, è invece supportata dalla Turchia. Per saperne di più, link nei commenti o in descrizione.